Ale, 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 Juve, Juve Stasera sono in versione ultra ragazzi perché per la prima volta la Juventus Women riesce a passare un turno di Champions In questo caso era il turno per qualificarsi ai gironi Siamo qualificate ai gironi ragazzi, bravissime, bravissime, bravissime La squadra di oggi era molto più difficile da affrontare rispetto a quella dell'altra volta, di pochi giorni fa La partita finisce 4-1 ma forse non rende l'idea Cioè perché comunque le ragazze veramente sono state attente e tutto ma le altre ci hanno provato Non ci sono riuscite perché appunto la nostra difesa è stata attentissima Il nostro centrocampo anche sia in avanti che in dietro e le nostre attaccanti sono state magistrali Quindi bravissime ragazze, bravissimissime Allora il primo gol arriva con Bonansea Tra l'altro ragazzi Bonansea e Urtig in Europa sono una certezza E Girelli comunque quest'anno lo sta diventando Quest'anno speriamo lo diventerà per adesso due partite, tre gol di Girelli Vabbè il primo gol arriva con Bonansea Praticamente Irinen in contropiede fa un cambio di gioco clamoroso Un cambio di gioco apertura diciamo Perché cambia lato del campo e fa una verticalizzazione di tipo 30 metri La palla non mi ricordo chi arriva sulla sinistra Messa in mezzo Bonansea non deve fare altro che metterla a rete Perché ha lo spazio per farlo Secondo gol sempre di Bonansea Zamanian bravissima, sempre in contropiede Dalla nostra tre quarti tipo fa una verticalizzazione assurda su Bonansea Che la fa rimbalzare un paio di volte E dopo di pallonetto la mette in porta Visto che il portiere era livemente fuori dai pali Poi nel secondo tempo arriva il 3 a 0 di appunto di Girelli Devo essere onesta non mi ricordo chi le ha fatto l'assist Comunque vabbè Gol di Girelli Poi arriva il 3 a 1 delle avversarie Anzi l'1 a 3 delle avversarie Perché teoricamente era Vabbè 3 a 1 delle avversarie Diciamo che lì Errore un po' della difesa che era un po' mal posizionata Però Anche il portiere comunque è Perché secondo me è rimasta troppo in avanti Doveva arretrare un po' E per me riusciva a prenderla se arretrava un po' Però vabbè Gol che non servirà a niente Perché appunto nel finale arriva il 4 a 1 Di Urtig Che non è stata schierata Perché ovviamente è tornata da due giorni Però è subentrata negli ultimi minuti Stascova altra subentrata In buca per Urtig E Urtig da sola davanti al portiere Mette a segno Confermando anche lo straordinario stato di forma Perché ha fatto delle olimpiadi veramente allucinanti Con la Svezia Sembra E adesso riconferma questo stato di forma Ragazzi siamo passati Sono contentissima Forza ragazze Forza Juventus Women Come ho detto Questa squadra era molto più difficile rispetto all'altra Alcuni addirittura davano per favorite loro Io non davo per favorite loro Però La reputavo quel tipo di squadra Che potrebbe farti lo scherzetto Vabbè intanto Marquez e Valentino Rossi Continuano a sorpassarsi Lo sapete Sotto caso è mia Vabbè Sempre fino alla fine Forza Juventus Women Ragazzi domani ci vediamo Con l'Under 23 Con la prima squadra Guarderò la prima mezz'ora Dell'Under 23 Poi inizia la partita Della prima squadra Magari nel Alla fine del primo tempo Della prima squadra Guarderò altri 15 minuti Di Ander 23 E dopo vi farò il post partita Ciao ragazzi Sempre fino alla fine Forza Juventus Women